Ben ritrovati ragazzi qui al EPT di Tallin, come vedete è inquadrato Gianfranco Ironico che giocherà domani il Day 1B del Main Event, andiamo a fare una panoramica della sala quando i bui sono 500.000 con l'ante a 100, come vedete dal tabellone mancano 17 minuti e 40 secondi circa alla fine del livello attuale e con esso finirà anche questo Day 1A, ricordiamo che 181 i giocatori che hanno preso parte a questo torneo e 95 per ora i superstiti, tra loro Luca Pagano è una forma veramente smagliante. Andiamo a vedere un'altra protagonista della giornata di oggi, Annette Oberstad che complice qualche mano fortunata è riuscita sicuramente a creare un ottimo presupposto per affrontare il Day 2. Vedete anche Muro ancora in gara e a fianco di lui, anche se è parzialmente coperto, lo inquadriamo ora, anche Palazzo. Entrambi sono ancora in gara, perfettamente in average e quindi anche per loro Day 2 che si preannuncia totalmente giocabile. Non intravedo altri italiani qui vicino, camminare tra i tavoli è abbastanza complicato perché come vedete gli spazi sono abbastanza ristretti quindi non andiamo a cercare gli altri italiani in gara per non allungare troppo il video. Io vi do l'appuntamento a domani per il Day 1B che vi ricordo inizierà alle 13 ore italiana, alle 11 scusate, ora italiana, mentre invece per quanto riguarda l'ora locale saranno appunto le 12, noi siamo un'ora avanti rispetto all'Italia. Vi dicevo vi saluto e vi do l'appuntamento per il blog live su PokerItalia Web Forum. Ciao a tutti ragazzi!